ciao ragazzi benvenuti a nuova vera, questa volta non ho dei ragni, meno male ho fatto no? aspetta thief balls, non so cosa sono però, sembrano degli alieni un dream boss dov'è? non vedo un dream boss che cacchio? un dream boss cavolo no che cacchio che cacchio che cacchio cavolo cavolo vattene, 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 cacchio questo è il cretino ok, finito mamma mia non ecco questo è un dream boss 3 pot 3 pot 3 pot what the fuck 3 pot mamma non succede mai e poi mai questo da noi per favore per favore per favore non succede proprio mai insomma nasconditi tu un tripod un tripod non succede mai non succede mai nasconditi non succede mai nasconditi non succede tutto buio perché non si vediamo che non succede mai nasconditi non succede mai no ma è un tripod un tripod vedete bene tutti noi non vediamo i nostri basta vediamo vediamo ok un tripod un tripod serio non l'ho visto meno male non l'ho visto 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 la luce vera non l'ho visto non l'ho visto non l'hoций